E' tempo di bilanci per i reparti speciali di Polstrada e Polfer di Messina, che hanno garantito la sicurezza dei trasporti su gomme e rotaie nel 2021. 26.846 conducenti sottoposti a controllo da Polstrada, 9.879 quelli monitorati durante i servizi contro le stragi del sabato sera, 132 i servizi con autovelox e telelaser e 3 quelli con impiego dei centri mobili di revisione per il controllo dei mezzi pesanti. Le violazioni accertate più frequenti riguardano l'eccesso di velocità, 2.458, a cui seguono messo uso di cinture e seggiolini, 917, e quelle per l'uso del telefonino alla guida, 188. 33 le violazioni per guida in stato di ebrezza o in stato di alterazione per uso di droghe. In provincia sono state ritirate 110 patenti e 565 carte di circolazione, 30 i veicoli sequestrati per guida sotto l'effetto di alcol o droghe. Ancora elevato purtroppo il tasso di incidentalità, 1.516 sinistri del 2021 con il pesante resoconto di 9 vittime, tra le cause più frequenti la distrazione alla guida, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. 42 servizi per il controllo di attività commerciali per le auto usate, agenzie di pratiche automobilistiche, carrozzerie e auto officine. 9 gli arresti, di cui 8 per traffico internazionale di veicoli riciclati ed 1 per spaccio di droga. 83 le denunce. La Polstrada ha anche partecipato a numerose campagne per la diffusione della cultura della sicurezza stradale, tra cui in particolare l'iniziativa organizzata dalla Questura di Messina, la Polizia va a scuola, dedicata a tutte le scuole della provincia. Quasi 50.000 invece le persone controllate dagli agenti della Polfer messinese nel 2021, che hanno presenziato 331 convogli ferroviari e svolto 1.985 servizi di pattuglia in uniforme in stazione e 283 antiborseggio in abiti civili. Le attività di prevenzione sono state incentivate con l'aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio, alto impatto, stazioni sicure, rail safe day, controllo merci pericolose e oro rosso. Grazie a quest'ultima sono state recuperate tre tonnellate di rame trafugato. 12 le persone arrestate, 55 quelle indagate, 141 le sanzioni elevate, mentre sono ben 47 i minori non accompagnati, rintracciati e riaffidati alle famiglie o in comunità dagli agenti della Polizia Ferroviaria Messinese. 4.997 i cittadini stranieri identificati e controllati, di cui 4 irregolari con emissione di decreto di espulsione. Svolte anche attività di contrasto allo spaccio e allo detenzione di droga, mentre durante i servizi di controllo sono state sequestrate diverse armi da taglio e persino un'arma da fuoco.